Tronchi, rami spezzati, una barca, parti di recinzioni, reti da pesca, pneumatici, teli di plastica e cumuli di immondizia. Tutti i detriti che le mareggiate di mesi scorsi hanno depositato in gran quantità. La bella stagione si avvicina ma ancora non tutte le spiagge sono pronte ad ospitare cittadini e turisti. Come ad esempio questa, l'altezza di via Fratelli Zuccari a Sassonia di Fano. Una discarica a cielo aperto? Sì, questa roba è qui dalla mareggiata del 6 febbraio che è venuto un dirigente dell'Asiat con l'assessor Paolini. Ci ha detto di appoggiarla in fondo, non vicino l'acqua perché se no la portava via, le mareggiate. E' ancora qui da febbraio. Poi ogni giorno aumenta perché passa qualcuno, butta una pentola, passa un altro, butta un sacchetto di immondizia. Aspettiamo, non so, a fine d'agosto che la porti in via. Ricordiamo che ha aspettato anche le scogliere, mi raccontava che ha dovuto rifare la recinzione per l'ennesima volta. Ho dovuto rifare una recinzione provvisoria perché finché non fanno le scogliere non posso fare una recinzione fissa perché ogni anno la devo rifare di nuovo. Quindi ho fatto una roba provvisoria perché se no d'estate arriva la gente, arrivano fino a casa nella mia proprietà e addirittura attraverso, non vogliono uscire dal cancello del portone di casa. Addirittura gliel'hanno pure rubata una? Un pezzo di rete me l'hanno rubata, era nuova quella, era un pezzetto nuova. La nostra redazione ha contattato in giornata AZSPA per avere ulteriori informazioni. La presidente Lucia Capodagli ci ha detto che non appena terminerà l'emergenza all'Ido di Fano causata dal maltempo dei giorni scorsi, si procederà per rimuovere il materiale depositato sul tratto di spiaggia di Sassonia Sud, partendo dall'aria antistante all'ex pista dei go-kart. Nel pomeriggio inoltre è stato effettuato un ulteriore sopralluogo nel punto da noi indicato con l'obiettivo di trovare una via d'accesso, visto che i terreni adiacenti sono di proprietà privata. I tecnici e la stessa presidente si sono resi disponibili a collaborare con i cittadini e chiedono di poter essere contattati al numero 0721 83 11 89 per risolvere al più presto il problema.